Siamo qui con Simone Mazzocchi, nuovo attaccante del Cosenza, io chiedo subito, finalmente dopo forse due o tre sessioni di calcio mercato che il Cosenza ti inseguiva, sei arrivato qui appunto a Cosenza, ti volevo chiedere cosa ti ha convinto questa volta ad accettare la nostra proposta. Sì è vero, ci è voluto un po', poi quest'estate il direttore e la società comunque hanno fatto ancora capire che volevano avermi con loro e non potevo mancare questa proposta ancora e sono venuto qui, ho raggiunto la squadra del ritiro, sono contento di essere arrivato abbastanza presto anche se c'è stata un po' di attesa per lavorare con i compagni, quindi sono contento. Conoscevi già qualcuno del vecchio gruppo e ti chiedo proprio che gruppo hai trovato qui? No, mi hanno accolto tutti alla grande fin dal primo giorno, ho trovato un bel gruppo unito anche perché secondo me se non c'è un gruppo unito non si fanno, non potevano salvarsi l'anno scorso che hanno fatto una grande cosa e quindi il gruppo penso che sia la prima cosa. E' un bel gruppo che mi ha accolto bene, si lavora bene insieme e lavoriamo giorno per giorno. Sei arrivato a Cosenza con una formula particolare, cioè del riscatto e del controriscatto, segno comunque che la società vuole puntare su Simone Mazzocchi. Cosa ti senti di dire e di promettere ai tifosi del Cosenza? No, sicuramente è una grande cosa nei miei confronti da parte della società, poi sicuramente aspetterà a me in campo dimostrare il mio valore e metterci tutto l'impegno e prometto appunto questo, dare l'anima al massimo per poter raggiungere grandi obiettivi perché si possono fare grandi cose. Io parlando anche con vari agenti, direttori sportivi, si parla un gran bene di Simone Mazzocchi, dopo due o tre anni di esperienza di Serie B, Simone Mazzocchi è pronto ad esplodere, cioè a arrivare alla famosa doppia cifra che poi consacra ogni attaccante in Serie B? Spero proprio di sì, sì, questo è il mio quarto anno di Serie B, ho fatto un po' di esperienza come dici te e spero proprio quest'anno di far vedere tutte le mie qualità qui a Cosenza. Grazie. Grazie a voi.